Abbiamo detto che lei è a capo adesso da quasi tre settimane della più grande procura europea, quella di Napoli. Gli avvocati penalisti di Napoli le hanno dato come benvenuto, le hanno mandato questa lettera, dove di fatto hanno contestato la sua nomina perché lei avrebbe un profilo troppo operativo militare. Ma questo è stato un messaggio intimidatorio. Cosa ha servito a questa lettera? Guardi, io ho da una vita che mangio pane e veleno. Io ho da una vita che combatto narcotrafficanti. Io sono stato nella foresta amazzonica e ho combattuto i capi dei terroristi colombiani, delle FARC, delle autodefenser. Ho combattuto i capi mafia in Aspromonte. Quindi si figuri cosa mi può preoccupare a me del documento della Camera Penale di Napoli. Dopo una vita fatta dove io non so stasera dove andrò, dove io non ho visto per tanto tempo la famiglia, si figura a me che mi può preoccupare del documento della Camera Penale. Un messaggio forte e chiaro. Ricordiamo che lei è da 35 anni sotto pesante scorta. Senti, a proposito di famiglia, sua moglie, che è un'insegnante, non ha fatto domanda di trasferimento per andare a Napoli perché non credeva che lei sarebbe stato nominato a quella procura. Sì, perché mi ha detto che ti bocciano sempre tutte le cose, quindi figurati se ti fanno procuratore di Napoli. Poi è successo e quindi forse il prossimo anno verrà. Però dice, se io vado a febbraio e vado io a Napoli e poi non ti fanno procuratore di Napoli, io che faccio a Napoli un anno? E quindi ha preferito per prudenza stare a Geragia, il posto dove vi... Quindi vi vedete come fidanzati? Come fidanzati, sì. Ogni 15 giorni ci vediamo. In caserma? In caserma, sì. In caserma. Dove lei vive, possiamo dirlo questo? Sì, sì. Senta, dottor Gratteri, lei ha spiegato anche qui a noi una volta che in Calabria il suo psicanalista è sempre stato il suo orto. Sì. E come fa a Napoli che non ce l'ha? Allora, ho un impianto di irrigazione con i timer, quindi certo crescerà un po' più di erba, perché l'orto, da noi si dice vuole l'uomo morto, ci vuole l'orto, bisogna andare ogni giorno a guardare l'orto. Però pazienza, non ci saranno... Ma le tocca trovare uno psicanalista, vero adesso a Napoli? No, 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 non ne ho bisogno. Io ho nervi d'acciaio e spalle larghe, sono allenato a qualsiasi tipo di stress, tranquilli tutti. Mi piace, mi diverte quando posso la campagna perché mi porta in una dimensione umana, ci porta in una dimensione parlo con gente semplice, con analfabeti, che non fanno, che non hanno retropensieri, che se dicono A pensano A. Per questo mi rilasso in campagna, perché vedo, ritrovo la gente vera, la gente genuina, la gente semplice del paese. Senta, ma lei ha detto che se avesse la bacchetta magica si comprerebbe una motocicletta, perché da giovane ha sempre amato molto i motori, un appassionato. Sapevo anche aggiustare i motori, perché era anche un meccanico, perché da noi quando si era ragazzo andava dal Mastro a imparare un mestiere. Quindi sono andato anche al meccanico, al carrozziero, ho fatto il panettiere, ho fatto il sarto, ho iniziato facendo il calzolaio, cioè passando il filo nella palla di cera e poi la davo al calzolaio con l'ago, perché una volta le scarpe si facevano a mano. Quindi insomma di mestieri ne avrebbe tanti. Sì, 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 se mi caccio alla magistratura ho tanti mestieri, posso fare tante cose. Senta, ma la motocicletta quando se la comprerà? No, penso mai, ormai resterà un sogno, sarà impossibile, però mi piacciono molto, eseguo molto. Perché è un possibile? Per quello che ho fatto, non penso che chi ha ricevuto le mie attenzioni non penso dimenticherà. E quindi niente motocicletta? Forse ho fatto molto male in giro, quindi non penso che si dimenticheranno. Nel periodo fino a quando io potrei avere la forza di farmi in giro in moto. Senta, ma quanto e cosa le manca della sua Calabria? Manca tutto, manca la mia terra, il fatto che aprivo la finestra, la mattina vedevo il mare, vedevo le piante, il mio orto, il mio cane, le mie galline, avevo tutto lì. C'è una vita, le poche ore che stavo lì, anche se era la mia casa o il grande fratello. Ci sono più telecamere in casa mia e attorno all'orto che nel grande fratello. Quindi per me comunque il posto più bello è il posto dove si nasce. E poi mi manca l'affetto dei calabresi perché la cosa più bella che penso di aver fatto in Calabria, oltre a costruire una nuova procura, l'aula bunker più grande del mondo, di aver trovato i soldi per costruire un parcheggio sotterraneo sotto la procura, la cosa più bella che mi porto qui a Napoli è aver dato fiducia a migliaia di persone, aver tolto nella testa dei calabresi la rassegnazione. Che toglierà anche dalla testa dei napoletani? Io ce la metterò tutta, darò tutto me stesso per cercare di migliorare, di rendere poi come prodotto finale una migliore qualità della vita nel distretto di Napoli. Con l'aiuto dei miei colleghi, dei magistrati del mio ufficio, delle forze dell'ordine, degli impiegati della procura, penso di continuare su questo percorso con l'esperienza che mi porto qui. cercherò di trasmettere lo stesso entusiasmo che ho trasmesso in Calabria.